E' stato un risveglio movimentato a Silvi dove all'alba sono andate a fuoco 5 auto, 4 distrutte totalmente ed una danneggiata in maniera seria, tutte in zona lungomare, nelle vicinanze del comune e in piazza Ideal. Gli agenti del commissariato di Atri, intervenuti sul posto assieme ai vigili del fuoco, stanno indagando. I pompieri hanno trovato degli inneschi, il che non lascia praticamente dubbi sull'origine dolosa degli incendi. Non sarebbero episodi isolati, da qualche tempo a questa parte, per cui la polizia sta indagando sulla presenza in città di un presunto piromane che si diverte a incendiare le auto in sosta. Il sindaco di Silvi, Andrea Scordella, vuole tenere alta l'attenzione, anche se, dice, non si può parlare di una vera e propria emergenza sicurezza. Ma all'arma e sicurezza sicuramente no. Diciamo che stiamo attenzionando un pochino la situazione, anche perché effettivamente questa è una cittadina che è cresciuta molto e ha bisogno sicuramente di un rinforzo delle forze di polizia. Non possiamo avere una stazione di carabinieri con, diciamo, poco organico. Abbiamo dovuto distogliere questa mattina la polizia locale dai vari servizi sul territorio, perché comunque, tolta la polizia che è intervenuta, diciamo, abbiamo dovuto dare ausilio con la polizia locale. È possibile ipotizzare che ci siano delle attività, non so, criminali dietro questi atti, oppure un gesto singolo? Ma pensiamo che sia un gesto, diciamo, di una persona singola, però quello che voglio dire è che comunque va attenzionata la situazione, perché Silvia è sempre una cittadina che comunque è di frontiera per la provincia di Teramo. Dunque, sicuramente l'aumento della popolazione e della fascia di residenti che sono sul territorio induce sicuramente ad attenzionare un pochino la situazione, soprattutto, insomma, dagli eventi criminosi che si verificano nel corso di questi ultimi mesi. Grazie. Grazie.